Toglierebbe da un grosso imbarazzo anche il PD? Per adesso mi godo lo spettacolo di vedere l'amico Gad e il governatore Zingaretti imbarazzati di fronte all'ipotesi di trovarsi domani a governare insieme a Salvini e a Berlusconi. Gad ne ha viste tante in vita sua, ma il PD insieme a Salvini credo che non avrebbe mai sperato. Lo ammetto. Non avrebbe mai sperato. E invece credo che purtroppo gli tocchi. Ma qui, io capisco che questa è l'ora, perché la cosa è abbastanza strana, è detta così salì ammucchiata. Ma non c'è bisogno che lo ricordo ai tuoi ospiti che De Gasperi e Togliatti si misero insieme per rimettere in piedi il paese. Poi una volta rimessi in piedi si ridivisero, eccetera, eccetera. Ma questo è il momento di rimettere insieme il paese. Che si chiami Salvini, che si chiami Berlusconi, che si chiami Zingaretti, che si chiami Pizza e Fichi. Ma o rimettiamo in piedi il paese senza fare gli schizzinosi, oppure continuiamo nelle battaglie ideologiche e allora sarà una specie di Vietnam, ma comunque andrà a finire. Zingaretti? No.